Benvenuti nella Galassia Rattics. Sei alla ricerca di un'auto spaziosa, comoda e versatile per le tue gite fuori porta con tutta la famiglia? Allora dai un'occhiata a questa Citroen Grand C4 Space Tourer. Questa fantastica monovolume, immatricolata a maggio 2022, è in condizioni impeccabili e vanta un chilometraggio certificato di soli 40.333 km. Con il suo spazioso abitacolo e i suoi sette posti comodi, la Grand C4 Space Tourer è l'auto ideale per le famiglie numerose che amano viaggiare. Grand C4 Space Tourer è dotata di un efficiente motore diesel da 130 CV che garantisce consumi ridotti e prestazioni brillanti. Il cambio automatico EAT-8A8 rapporti rende la guida fluida e confortevole, ideale per affrontare lunghi viaggi in autostrada. Dotata di tutti i più moderni sistemi di sicurezza, come il sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Non perdere questa occasione e visita subito il nostro sito rattix.com per scoprire di più e fissare un test drive.